Sono un Vescovo della Chiesa di Dio, l'unico Vescovo in Italia che pratica di persona il Ministero dell'Esorcismo. Io sono Monsignor Andrea Gemma, Vescovo Emerito di Isernia Venafro in Molise. Esorcista praticante, autore di due libri in materia, quindi è inutile che mi fate tante domande e mi dite tante cose. Se andate nelle librerie cattoliche dovreste trovarli. Io, Vescovo esorcista, primo volume. Il secondo volume, confidenze di un esorcista. Trovate tutta la casistica che vi interessa. Ho sentito molti di voi, quindi posso dirlo. Il Signore, ve lo dico candidamente, umiliato davanti a Dio, mi concede di sapere che le mie benedizioni di esorcista, ma soprattutto di Vescovo, fanno effetto. Non c'è bisogno che ognuno venga a chiedervele poi personalmente. Quando io dico benedico tutti, è la stessa, stessissima cosa. Perché voi capite, io sono uno e anche mi avvio ai 90 anni, quindi capite che non posso. Comincio dal gemito, cioè dal lamento, dal pianto, dalla sofferenza che San Paolo dice essere non solo nel fondo del nostro cuore. Secondo l'Apostolo, lo si ritrova anche nella natura, anche nelle cose. Quando io avverto dalla cronaca quotidiana i fatti e i misfatti che ci addolorano, le catastrofi naturali, i delitti inconcepibili che della nostra cronaca vicino o lontano ci vengono sotto gli occhi ogni giorno, io dico ecco il gemito della creazione. Mi fermo perché interiorizziamo queste cose. Se tu avverti questo gemito o per te o per quello che soffri o per quello che ti fanno soffrire, c'è stato un apostolo che lo ha descritto per sé e per tutti. E' il gemito della nostra povera umanità. Seconda parola chiave, ahimè, bruttissima. Avete sentito l'Apostolo? Un messo di Satana è stato incaricato di schiaffeggiarmi, lo dice l'Apostolo Paolo. Quando qualcuno mi dice il mio parroco, il mio prete, il mio vescovo, non credono al demonio, io rabbrividisco naturalmente e scusando queste persone solo per la abissale loro ignoranza, penso a queste pagine del Vangelo e della Santa Scrittura. Il gemito è ciò che lo produce in noi e nelle cose, è prodotto da questo spirito malvagio, il Satana. Da notare, mi permetto di fare il professore, come ho sempre fatto per gli anni della mia giovinezza, il termine Satana, Satanna in ebraico, non è un nome proprio, è un nome comune, che vuol dire l'avversario. Quindi il Satana, anche se lui stesso, ve lo assicuro, l'ho rilevato nei miei esorcismi, anche se il capo dei demoni si chiama Satana, si fa chiamare Satana e si vanta di essere chiamato Satana. Anche diavolo è una parola comune, so che ci sono qui dei professori di latino e greco, come sono stato io, diavolo deriva dal verbo greco diaballo, e vuol dire avversario, cioè uno che si mette in mezzo e ti taglia la strada perché tu non avanzi, perché tu non arrivi alla meta. Questo è il diavolo. E voi sapete che non è uno solo il diavolo. Diavolo, ripeto, è termine comune. Poi i nomi propri dei diavoli non mi interessano, so solo che sono miriadi i diavoli, e so pure che molto spesso sono in molti a prendere possesso di una povera persona, come sono appunto i posseduti, tra cui quelli che sto curando io stesso. Ricordate l'episodio evangelico? Gesù dice come ti chiami? Siamo legione! L'ultimo dei miei carissimi ammalati di questo genere, alla mia domanda quanti siete rimasti? Eravamo tanti, adesso sono uno solo, sono io solo, il più stupido, gli ho detto io. Eh sì, ha accennato lui, sì, il più stupido, perché gli altri se ne sono scappati di fronte alla potenza della mano di Dio. Quindi il gemito Satana. Quando ci sentiamo schiaffeggiati, qualcuno lo sente anche fisicamente di quelli che sto curando io, quando ci sentiamo schiaffeggiati, o direttamente o indirettamente, dobbiamo dire ecco perché, perché esiste questo perfido nemico dell'uomo, nemico sin dall'inizio, La seconda pagina della Bibbia è la descrizione simbolica, quanto volete, ma di una realtà realissima. Il diavolo si è messo in mezzo e ha tagliato la strada tra Dio, Padre nostro, sia benedetto, e l'uomo poveretto che si è lasciato sedurre. Tutto è derivato da lì. Tutto è derivato da lì. Ripeto, direttamente o indirettamente, San Paolo lo dice in altre parti delle sue lettere. La morte è entrata nel mondo, libro della sapienza, per colpa del diavolo, per invidia del diavolo. Sapete qual è la cosa che più dispiace al diavolo e a tutti i suoi angeli? Prima di tutto, naturalmente, l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo. E poi il fatto stesso che Gesù, Dio, o se sa, che Gesù è Dio, il demonio, abbia scelto di incarnarsi, cioè di diventare uomo, carne, come dice Giovanni, 1,14, e non abbia scelto di essere angelo. Questo per il demonio è insopportabile, perché è quasi una scelta divina che privilegia noi, poveracci, noi destinati alla polvere del sepolcro, come ci hanno detto all'inizio della Quaresima, ha scelto noi e non ha scelto un angelo. Che cosa sarebbe costato al Figlio di Dio di presentarsi nel mondo come un angelo bellissimo? Ma in questo caso, diciamola tutta, non avrebbe potuto pagare a nome nostro. Perché un angelo non potrebbe morire in croce. Ma questa cosa è insopportabile per il maligno. Ecco perché è terrorizzato dal crocifisso e da colei che stava sotto la croce. Voi lo sapete, io porto la mia carissima madre qua dietro la mia croce, ce l'ho fatta incollare e il demonio un giorno lo ha detto, lo descrivo nel mio secondo libro, quel vescovo che ha la medaglietta della Madonna sul suo petto, come ha fatto? Non l'aveva mai visto quel povero posseduto. ecco i nemici del demonio, Gesù benedetto e la sua santissima madre. mettetevi sotto la protezione di Maria siete salvi. Oggi, primo sabato del mese, mettetevi sotto la protezione di Maria siete salvi. Quante volte mi sono sentito dire da questi brutti ceffi se tu non avessi quella il demonio non pronunzia il nome di Maria come non pronunzia il nome di Gesù. Il tuo capo, il tuo lui, quella se tu non avessi quella ti avremmo strozzato da tempo. Che bellezza dico io comunque questa è la più grande bugia il Signore non avrebbe mai permesso ai demoni di strozzarmi no, non lo permette per nessuno al massimo ci fa capitare tante brutte cose ma non permetterebbe l'estremo male. Tu c'hai quella tu hai quella e me ne vanto eccola qui eccola qua e soprattutto eccola qua dentro. Dunque non perdetevi le parole per favore gemito il Satana c'è una terza parola che vi è carissima lo spirito con la maiuscola lo spirito stesso ci ha detto Paolo viene in nostro soccorso anche perché noi non sappiamo che cosa chiedere quante volte mi sono trovato a spiegare questa espressione misteriosa ma realissima noi non potremmo dire cose accette a colui che ci è padre ma ci pensa lui lo spirito santo a parlare in nome nostro quello spirito che in altri due luoghi delle lettere di Paolo grida dentro di noi Abba padre quindi la forma più bella di preghiera carissimi spero di insegnarvela e perché la praticiate d'ora in poi è quella di dire allo spirito prega per me parla tu per me al padre quindi a me piace dire parlando della preghiera che non solo lo spirito santo prega in noi e qualifica la nostra preghiera ma lo spirito santo è la nostra preghiera e quand'è che noi meglio facciamo in modo che lo spirito santo gridi in noi verso il padre quando da soli in ore di silenzio lasciamo che parli lui lasciamo che parli lui quindi lo spirito santo è l'intercessore colui che prende il nostro posto qual è il nostro posto fratelli miei qual è il nostro posto il più basso il più melmoso che si possa immaginare ma c'è lui c'è lo spirito santo questo spirito santo ed ecco la quarta parola poi vi interrogo alla fine la quarta parola la grazia ho gridato a Dio tre volte perché mi liberasse Dio mi ha detto ti basta la mia grazia sentite questa parola come un ritornello nel vostro cuore sentitela come un ritornello ti basta la mia grazia infatti virtus per i sacerdoti lo dico in latino quante volte l'abbiamo ripetuto virtus in infirmitate per ficitur tradotto bene significa la mia tra parentesi è Dio che parla la mia potenza si manifesta esplode nella tua debolezza senza questi due aggettivi possessivi non si comprende quella frase la mia potenza dice Dio si manifesta ma è troppo poco dire si manifesta raggiunge la pienezza nella tua debolezza perciò se tu ti senti debole se tu ti senti peccatore se tu ti senti nulla Santa Teresa Davida todo nada todo nada tu sei tutto io niente ma Dio ha bisogno di questo niente per manifestare la sua potenza la sua onnipotenza ti basta la mia grazia quindi la grazia è sinonimo in tutta la teologia mi raccomando è sinonimo del vocabolo precedente lo Spirito Santo tant'è vero che la teologia orientale parla più volentieri di Spirito Santo mentre quella occidentale la nostra parla più volentieri di grazia il solito grande immenso Sant'Omaso congiunge le due cose dicendo lo Spirito Santo è la grazia increata che produce per il fatto stesso di esserci produce in noi la grazia creata quella quella che noi chiamiamo la grazia che il catechismo definisce una qualità dell'anima ditelo come volete luce vita gloria tutto è la grazia ed è l'unica cosa che dovremmo tenerci cara quando c'è la grazia c'è lo Spirito Santo quando c'è lo Spirito Santo c'è la grazia l'ultima parola no la penultima liberazione o libertà Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi come mediante lo Spirito dove c'è lo Spirito ivi c'è libertà e San Paolo che grida a Dio ci mette in bocca un'altra parola tre volte ho gridato al Signore perché mi liberasse tu hai bisogno di liberazione lo senti quanti già me lo hanno detto qui tra voi di al Signore che ti liberi in che modo ti libera con il suo Spirito perché lo Spirito è l'intercessore perché lo Spirito sto facendo teologia ma ve la sminuzzo il braccio esterno alla Trinità della stessa Trinità è lo Spirito Santo ogni operazione che si verifica al di fuori della comunione trinitaria immensa infinita incomprensibile trascendente ogni operazione l'incarnazione concepì per opera dello Spirito Santo l'eucaristia manda il tuo spirito a santificare questi doni ogni operazione che si verifica al di fuori della Trinità Santissima è il braccio di Dio cioè lo Spirito Santo digitus dei Altissimi diciamo dello Spirito Santo dito del Dio Altissimo braccio o dito a Dio basta solo un dito ed è lo Spirito Santo è lui l'autore della nostra liberazione quella liberazione che il gemito universale il gemito del nostro cuore continuamente implorano come San Paolo e con San Paolo Signore liberaci Signore liberaci liberaci da questo fiume di fango liberaci dalle potenze dell'inferno scatenate a nuocere a noi poveri uomini liberaci demonio satana diavolo poi ci sono i singoli la schiera in numere è inutile carissimi amici sacerdoti che mandate via i poveri tribolati con questa semplicistica che però sottende qualche cosa che li riguarda con la semplicissima affermazione vai dallo psichiatra io dico sì almeno dopo le prime visite dei miei pazienti sei andato da uno psicologo da uno psichiatra ti ha dato chissà delle belle medicine ti hanno giovato no è logico dico io se fossi venuto da me subito all'inizio ti avrei detto che non avevi bisogno dello psichiatra e dello psicologo ma solo di quell'altra medicina di quell'altra medicina di cui adesso parliamo per concludere ma il demonio è un'altra cosa non è come dice Paolo VI non è un'astrazione non è un'astrazione per dire tutto ciò che è male ma è una efficienza ecco non è un'assenza Paolo VI un poeta della lingua non è una assenza il male sarebbe assenza di bene certo ma parlando del demonio si deve parlare di una efficienza di una personalità terribile personalità l'ultimo la preghiera la preghiera cos'è che attiva la potenza del dito di Dio cos'è che lo attiva la nostra preghiera l'unico potere che noi abbiamo ma come vorrei riuscire a mettervi questo chiodo in testa l'unica possibilità che noi abbiamo di capovolgere le cose è la preghiera l'unica possibilità cos'è l'esorcismo alcuni pensano a fattuccherie di vario genere ma no l'esorcismo è una preghiera quella che puoi fare tu su te stesso quella che fai quando assisti alla messa soprattutto quando vai a confessarti la preghiera io dovevo arrivare ad essere vescovo per capire a fondo la potenza grandissima immensa totale della preghiera più umile è la preghiera più insistente è e più moltiplica i prodigi se uno vive di preghiera respira di preghiera già ho detto poco fa che la nostra preghiera si chiama non tutti lo ricordavano è lui la nostra preghiera allora capisco perché succedono i miracoli allora capisco perché succedono i miracoli la preghiera è l'arma vittoriosa di tutte le battaglie mi domandano ma che devo fare pregare mi domandano mi aiuti pregherò per te vi ho già detto ieri che siete tutti d'ora in poi nella mia preghiera e quando avete bisogno di qualcosa dite al signore quel vescovo ti sta pregando anche per me come faccio ogni giorno la preghiera è l'arma vittoriosa di ogni battaglia se noi coltivassimo in profondità la preghiera naturalmente ci sono le condizioni per la preghiera prima di tutte l'umiltà niente pretendere da Dio Dio non è tenuto a darti nulla perché ti ha già dato tutto nel figlio suo Gesù Cristo tutto ti ha dato non puoi pretendere nulla da Dio quello che pretendiamo è perché lui ce l'ha promesso chiedete ed otterrete bussate vi sarà aperto cercate e troverete questa è la preghiera questa è la preghiera che sono venuto a fare insieme con voi per tutto ciò che il Signore vuole da me e da voi di liberazione di consolazione di perdono e di pace ma anche questo vi autorizzo a dirlo ai miei confratelli vescovi voi lo sapete no forse molti di voi non lo sanno se non sanno il greco la espressione liberaci dal male è pessimamente tradotta perché liberanos amalo i professori di latino come sono stato io sanno che malus l'aggettivo cattivo può essere neutro ma all'um allora liberaci da ciò che è male come comunemente si intende quando si dice il Padre Nostro invece il testo greco è al maschile liberaci da colui che è il cattivo per eccellenza chi è il cattivo per eccellenza comunque vi preannunzio che sta per uscire la seconda edizione di un mio libro di preghiere di liberazione che è esaurito nella prima edizione che adesso stanno ristampando io ho voluto proprio a questo scopo cambiargli il titolo lo troverete nelle librerie e sempre dalla editrice degli altri due miei libri liberaci dal maligno questo sarà il titolo dicendo il Padre Nostro metteteci l'intenzione quando lo recito in latino io parlo sempre in latino quando io lo dico in latino penso sempre al malus a colui che è il cattivo per eccellenza non è il male in astratto come è il male a un dito il male a un piede no no alle mie povere ossa no no non mi dico di liberarmi da questi malanni ma liberami dal malus dal malus anzi bisogna far così metteteci almeno l'intenzione se non è possibile correggere dato che ormai il modo di pregare comune è diventato così radicale che anche i vescovi hanno pensato che è impossibile poterlo cambiare ma bisognerebbe dire in italiano liberaci dal maligno ecco perché siamo qui per pregare quando avrete in mano questo libretto ne sono andate via tantissime copie nella prima edizione poi l'editrice è cambiata si è spostata comunque ho aggiunto qualche altra preghiera tra cui anche quelle di padre Amort e tutte le altre sono mie potete avere un piccolo manuale per pregare proprio direttamente per questo scopo per essere liberati dal maligno e dalle sue orribili conseguenze voi non avete l'idea quali possono essere le conseguenze a cui conduce il nefasto impero di questo malefico essere e concludo con la parte più dolorosa ma lo sapete che ci sono tra i nostri fratelli forse tra i nostri vicini forse tra i nostri parenti ci sono coloro che si mettono sotto il dominio di questi spiriti malefici lo sapete che cosa è il satanismo lo sapete questo è dire al demonio tu devi regnare su di noi ma come si può arrivare a tanto come si può arrivare a tanto vedete come io dico sempre a coloro che vengono da me almeno la prima volta dico guardate dopo il mio intervento il demonio vi farà subito vedere immediatamente che le cose peggiorano io vi preavviso ma poi poi ricomincerete la salita così è così è perché sotto l'esorcismo i posseduti gli ossessi i maleficiati reagiscono proprio perché il demonio vuol far capire falsamente egli che è il bugiardo il menzognero l'omicida secondo le definizioni di Gesù perché vuol farvi dire vedi tu vai dall'esorcista ma stai peggio il giorno dopo magari due giorni dopo tre giorni stai peggio poi se tu hai la costanza di continuare vedrai vedrai come si ritirerà da te piano piano ecco perché la frequenza per chi ne ha bisogno dell'esorcista come ho detto e dico sempre deve essere periodica e continuata ed è per questo che la Santa Chiesa vuole che almeno in ogni diocesi ci sia un esorcista sapete da dove deriva il male malefico che può prendere una persona lei la persona i suoi congiunti i suoi figlioletti sapete da che cosa deriva normalmente 99 casi su 100 deriva dall'aver partecipato anche una sola volta a un'operazione occultistica aver frequentato anche una sola volta una seduta spiritica aver frequentato dei maghi deriva da qui a proposito di maghi o sono dei giocolieri quindi fanno dei giochi di prestigio quindi dei prestidigitatori o sono degli emissari di Satana del Satana o sono quindi operatori emissari intermediari del maligno senza dubbio senza è una convinzione che in me è fortissima quindi c'è da aggiungere e sì purtroppo io lo domando sempre che questo capita anche se non è la persona stessa ad aver praticato questo occultismo ma è qualche suo o ascendente o addirittura parente immediato il primo posseduto che ho liberato dopo una quaresima intera di esorcismi perché questi poveri genitori me lo portarono venendo da lontano niente meno che dal Veneto dopo una quaresima per 40 giorni esorcismi di almeno un'ora il sabato santo fu liberato e sapete perché era diventato posseduto il mio caro Luigi a cui mando un bel saluto e una preghiera perché era stato costretto a partecipare costretto a una seduta spiritica messa in atto addirittura nella sua classe ma dove sono i professori dove sono i presidi dove sono gli educatori comunque Luigi è sereno e liberato definitivamente altri sono per la strada comunque sia comunque sia guardatevi da questa genia di operatori del maligno di emissari del maligno guardate che ci cascano continuamente i nostri giovani ci cascano continuamente ma se è facile rompere un coccio è difficilissimo poi ricostruirlo esattamente questo deve essere chiaro salvaguardiamo i nostri ragazzi salvaguardiamo gli innocenti e soprattutto fasciamo coloro a cui vogliamo bene di tanta 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 preghiera e così di sia grazie grazie grazie